bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e con voi ragazzi volevo condividere un ritorno di una delle modalità più divertenti presenti su fortnite l'aviazione reale air royale in inglese è arrivata ieri pomeriggio verso le 15 si gioca in duo e come vedete secondo me merita davvero tantissimo obiettivo andare a prendere le armi le casse tutto quello che è presente nei cieli per poter potenziare il nostro aeroplano da siamo dentro con uno sconosciuto signor hero frog vediamo di riuscire a fargli potenziare un po le armi ed evitare di farci sparacchiare però io frog non lo vedo quando ho convinto a sparare dai roda iro guardate che figata abbiamo i missili abbiamo i missili vai vai bom 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 vai vai iro sparagli sparagli ro let's go let's go andiamo a prendere una cassa epica andiamo a prendere una cassa epica super virata e let's go forziere epico abbiamo la minigun e abbiamo i missili a ricerca vai 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 guarda questi avevo mai ro vai ro forza let's go let's go 120 un danno veramente assurdo quello che fanno queste armi epiche vai che va a fuoco vai che va a fuoco bazinga e andiamo e andiamo prendiamo un'altra arma epica l'aero royale ragazzi è veramente divertentissima ci sono anche le casse leggendari io vi consiglio di giocarla se non lo avete ancora fatto let's go si è roso conto che aveva una una minigun la vedo molto male la vedo molto male mei dei mei dei mei dei serve recuperare un un medikit assolutamente siamo messi molto molto male la davanti la davanti tra l'altro giocando questa modalità guadagnerete anche un sacco di metri percorsi con un veicolo quindi io vi invito a farlo ragazzi vai col medikit let's go cerchiamo di evitare recuperiamo ancora forza iro forza iro forza iro un altro medikit let's go siamo full let's go siamo full vai doppio abitamento e dentro così e dentro così dov'è la gente dov'è vai vai boom collisione aerea collisione aerea col cazzo che lo prendete voi il medikit andiamo let's go let's go vai che siamo in coda vai che siamo in coda mitraglialo mitraglialo siamo sottotiro siamo sottotiro mi ricordo che non potete atterrare via 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 pericoloso pericoloso dobbiamo recuperare dobbiamo recuperare assolutamente attenzione anche alla safe avanti 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 brutta ragazzi è brutta storia brutta storia ma dentro ancora così 16 eri nemici rimasti di nuovo armi epiche che vedo quando avanti un medikit che ci serve tantissimo per riportare full la salute attenzione cassa leggendaria dentro con la cassa leggendaria dentro con la cassa leggendaria bam abbiamo laser abbiamo laser ma prima devo recuperare il medikit è davvero tanta tanta roba ragazzi questa modalità mi piace un casino let's go let's go hero let's go ma i 200 a borsa 200 200 200 200 200 200 vai 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 buia cassa andiamo siamo a 18.000 metri su 20.000 percorsi stiamo facendo una strage possiamo anche non recuperare il medikit ma lo prendiamo ugualmente vale la pena non lasciarlo agli altri e intanto ce ne andiamo verso la safe vai 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 buia distrutti anche questi easy ora cerchiamo di sistemarci assolutamente perché la situazione non è delle migliori non siamo messi così male ma neanche così bene avvitamento dobbiamo di evitare i colpi dobbiamo assolutamente recuperare questo medikit vai 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 uiantes cor五 carrier scendi 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 ci prendono di mira la eriva a fuoco ci prendono di mira bruttissima 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 Siamo dentro in otto, mi serve un'arma epica assolutamente da dare al nostro compagno di squadra dentro con le armi epiche, forza fai qualcosa hai la mini Ganzio adesso gli do una mano pure io gli do no giù 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 oddio abbiamo perso l'aeroplano dov'è il mio aeroplano? ho perso l'aeroplano c'è un problema tecnico con l'aeroplano e non c'è un problema tecnico con l'aeroplano non volevo fare questo bordello signori situazione complicazione guida lui guida lui vai fai bravo e mi raccomando guida bene non fare il culion non fare il culion buia fuori dai coglioni vai fuori dai coglioni anche questo easy va ammazzo tutti va ammazzo vai è troppo divertente scendi zio frank scendi zio pino risali zio pino vai boom siamo rimasti in quattro ragazzi attenzione oh mio dio è partito qualcosa a schermo che non doveva partire easy ci siamo ci siamo ci siamo chiedo scusa chiedo scusa dove sono gli aeroplani nemici 815 colpi non li vedo è meglio che vai a prendere il medikit zio è meglio che vai a prendere il medikit zio bravo bravo no ormai non puoi più prenderlo vai verso di qua la cassa leggendaria vai 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 morto un altro easy morto un altro bravo bravo stiamo dominando ragazzi i veri dominatori dell'aria i veri dominatori dell'aria avanti ancora avanti ancora carichiamo non mollare non mollare non mollare non mollare non mollare è bravo questo tizio ragazze bravo guidare carica cari bravo mi piace come taglia bravo 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 buuu siamo esplosi noi siamo esplosi abbiamo l'ultimo aeroplano disponibile ed è 1v1 e sono da solo come sono da solo elimina avversari da 150 metri lol e andiamo a chiuderla e andiamo a chiuderla ragazzi modalità air royale veramente veramente divertentissima vi consiglio di giocarla prima che la ritolgano ragazzi merita davvero un casino io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando lasciate un bel pollicione in su iscrivetevi al mio canale noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao